I volontari che si dedicano agli ungulati stanno prendendo uilli. Si tratta di un'operazione molto delicata, c'è una cassa speciale in legno dove il nostro piccolo muflone deve essere immesso. Naturalmente bisogna bloccarlo, bloccarlo in un angolino, fare in modo che lui non si spaventi e con molta delicatezza bisogna farlo entrare in questa cassa speciale che è stata costruita proprio per questo utilizzo e poi loro lo stanno portando qui, vedi Stella? Ecco, guarda, stanno arrivando, stanno arrivando, stanno arrivando. Lui non sa ancora cosa gli succederà. No, non lo sa, ma qui sarà sicuramente molto felice, eccoci. Grazie ragazzi, siamo pronti. Willy, forza. Stella, che corsa meravigliosa, ma hai visto? Willy, sta arrivando anche Chica, aspettala.